Il ricordo di Filippo Mondelli? Il ricordo è quello solare, è quello sulla barca, in piedi dopo aver vinto il mondiale nel 4 di coppia. Un ragazzo ritratto della salute, due metri, più di 100 kg, mai un problema. Quando 13 mesi fa, mi ricordo dall'istituto di medicina, il professor Spataro, con Peppa Bagnale hanno diagnosticato il suo male. Si era capito che era una cosa seria, ma si temeva oggettivamente all'impossibilità che lui potesse continuare a fare l'atleta di alto livello. E credo che questo, nei mesi successivi, l'operazione a lui l'abbia capito. Però l'idea che fosse stata eletta con il più alto numero di voti dagli atleti, come mi ha detto ieri la madre Monica, che rappresentava per lui la possibilità di una vita diversa, non più da atleta ma da dirigente, da uno che faceva qualcosa sulle scrivenie e sui banchi del mondo dello sport. Poi, questi ultimi giorni, direi di queste ultime settimane, ci era preso lo sconforto perché la situazione era precipitata. Una storia tristissima. Andremo ovviamente all'esecchio lunedì a Cernobbio.